Musica Buongiorno e bentrovati a Mattino 6. Oggi, venerdì 8 gennaio, si venera San Massimo. Massimo è stato vescovo di Pavia e patrono di Valenza. Su San Massimo successe al vescovo Epifanio. Fu ambasciatore di Teodorico e partecipò a diversi concili a Roma tra il V e il VI secolo. Le notizie sulla sua vita sono pochissime, poco attendibili, anche a causa del confuso periodo in cui visse, tra la caduta dell'impero romano d'Occidente e il regno barbarico degli Ostrugoti. Secondo un'attendibile tradizione, invece, è sepolto nella chiesa di San Giovanni in Borgo, Morì a Pavia, nel 514. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con il messaggero. Vediamo in apertura, iniziamo con le notizie nazionali e dal mondo. Il messaggero di oggi che apre con donne molestate. C'era un piano, Germania sotto shock, abusi di massa in altre città tedesche, ma anche in Svizzera e Austria. Linea dura Merkel, espulsioni e taglia l'welfare. La Slovacchia stop ai profughi musulmani. In centropagina, la fotonotizia, vediamo, nell'anniversario di Charlie Hebdo, ha assaltato un commissariato, un robot della polizia, si avvicina al corpo dell'uomo. Ucciso, terrore a Parigi, ucciso marocchino, con finta cintura esplosiva e simboli ISIS. Mafia capitale, prime condanne. Due anni a Ozimo, il verdetto per l'ex assessore del PD a Campidoglio, un ex consigliere e due collaboratori di Odevine. Entriamo all'interno, vediamo in primo piano, torna il terrore a Parigi. Marocchino ucciso dalla polizia, era fedele all'ISIS, aveva un coltello, una finta cintura esplosiva, ha cercato di entrare in un commissariato, urlava alla e grande. In tasca, vediamo nel sommario, un foglio con la rivendicazione iadista, ma c'è chi accusa gli agenti hanno sparato troppo presto. Vediamo nella pagina successiva, ma l'intelligence ora teme che arrivi il superattacco, tra falsi allarmi e lupi solitari, il paese è in preda alla psicosi del sarro-attentato. Quindi gli attentati in prima linea, gli esperti avvertono, il terrorista Abbaud fu vicino a uccidere il ministro dell'Interno. L'altro incubo della sicurezza è l'esercito di cani sciolti, impossibile impedire le azioni isolate. Vediamo ora nel taglio basso il ritratto, il mistero dell'uomo senza passato, schedato perché complice di un ladro. I poliziotti sembrava un pazzo, tutto fa pensare a uno squilibrato o a un piccolo delinquente. Non si hanno certezze neanche sul nome che dichiarò quando venne fermato più di due anni fa. Ed ancora vediamo lo scenario Charlie Hebdo, l'attentato che la Francia ha capito tardi. Un anno dopo Parigi rivede gli stessi errori di allora Hollande, il peso di una minaccia spaventosa. Ancora avanti vediamo l'Isis attacca in Libia, strage di poliziotti, un camion bomba, colpisce la scuola della guardia costiera a Slitten, 74 morti in una città dove gli adisti non hanno seguaci. I miliziani affiliati al califato pronti ad assaltare gli impianti petroliferi, il generale Haftar muove i suoi caccia. La scuola è avanzata degli islamisti nei centri della costa, scontri con i soldati filogovernativi. Ancora vediamo in primo piano le borse, la Cina crolla e chiude i mercati, l'Europa giù ma limita i danni. Shanghai sospesa quando perde il 7,3%, Milano cede l'1,14% dopo la notizia dello stop agli automatismi asiatici sugli scambi. Svalutazione e stimoli a oltranza il fardello che affossa a Pechino. Secondo gli analisti USA, le autorità cinesi hanno perso la propria credibilità ad agosto. Andava pianificato l'atterraggio morbido, invece sono state ancora alimentate le bolle. Vediamo in breve l'intervista. Niente effetto domino, non è una crisi strutturale nel sommario. Il problema è che sui dati economici non ci sono certezze. Ancora all'interno, sempre in primo piano, vediamo la ex Etruglia verso la bancarotta. Il sottotitolo, il liquidatore Santoni, ha depositato la dichiarazione di insolvenza al Tribunale di Arezzo il 28 dicembre scorso. I documenti potrebbero essere trasmessi alla procura e entro 60 giorni la relazione del curatore fallimentare. La fotonotizia, rimborsi, vertice Padoan, cantone, priorità risparmiatori più poveri, quindi alta tensione, disinnescato, un ordigno rudimentale. Bomba alla sede di Perugia, un ordigno rudimentale è stato lasciato davanti alla filiale di Banca Etruria di Porto di Ponte San Giovanni a Perugia. Vediamo il taglio basso, l'asta, banche salvate, in campo anche BNL. Le prime offerte entro fine febbraio, ieri vertice fra Incastro, gli AD e i consulenti, l'otto del prossimo mese, le carte ai pretendenti. Per fine marzo attese le proposte finali in Banca del Lavoro. L'arrivo di Munari potrebbe imprimere un'accelerata anche per stoppare Cariparma e gli altri in pista. Ed ancora vediamo dal mondo, in primo piano, violenze a Colonia, spuntano altri casi. L'ipotesi di un piano, Merkel, ora si cambia. Sono 16 i sospettati per gli abusi contro le donne a Capodanno, denunce da tutta la Germania e da Svizzera, Austria e Finlandia. Un rapporto shock della polizia tedesca avrebbero potuto esserci anche dei morti. Ad Hamburgo 70 segnalazioni, molessie di massa, anche a Zurigo, Salisburgo ed El Nischi. E ancora vediamo la svolta migranti, Angela Merkel cambia linea, espulsioni e tagli al welfare. La cancelliera accusa di eccessiva apertura, adesso deve correre ai ripari. Berlino si affianca alla linea di Londra, sussidi da ridurre ai disoccupati stranieri. E la Slovacchia basta a musulmani e l'unione è caos, ecco la grafica dell'accordo e cosa prevede. Ed ancora vediamo clandestinità, via il reato, dopo le unioni civili si apre un nuovo fronte, le misure sugli stranieri irregolari nel decreto, depenalizzazioni nonostante i paletti dei centristi. Il PD va avanti sulle adozioni gay. La fotonotizia, la festa del tricolore, mattarella, simbolo anche per i nuovi italiani. E la polemica vediamo in centropagina, quarto grillo. Clan non decisivi, ma ora Cantone chiede le carte. L'autorità anticorruzione si attiva sulle delibere del comune pentastellato. Direttorio 5 Stelle diviso per Casaleggio, il sindaco Capuozzo è un freno ed evoca lo scioglimento. Nel taglio basso e retroscena Air Force One di Palazzo Chigi, la consegna slitta ancora. I piloti dell'aeronautica hanno conseguito l'abilitazione, ma mancano ancora le modifiche interne. Ed ancora, pagina successiva, il caso, la RAI, processa il suo dirigente, anticipò apposta Capodanno. Capostruttura di RAI 1 sotto accusa, voleva fare audience, pugno duro del TG, già sul tavolo di campo dall'orto. Gli esiti dell'audit non pagano solo i pesci piccoli. Questa è la notizia sul fatto che la RAI avrebbe anticipato di qualche secondo i festeggiamenti per l'anno nuovo. Quei 45 secondi mancanti. Il personaggio, vediamo se ne va Zanone, liberale anomalo, che scelse l'ulivo, mai con la destra. Si è spento ieri a Roma, aveva 80 anni, ha lasciato scritto sulla tomba, mettete solo liberale. Ed ancora, vediamo nelle cronache amicizie pericolose, cioè il PG di Bari finisce sotto inchiesta. Procedimento disciplinare del CSM nei confronti del magistrato avrebbe avuto rapporti con imprenditori e politici, favorendo illeciti. Tra le accuse, anche quella di incontri sessuali con le amanti degli indagati e con le sue studentesse. Due anni a Ozzimo per corruzione. Vediamo ancora il verdetto. Mafia Capitale, prima, eccoci, Mafia Capitale, prime condanne per l'ex assessore del PD alla casa nella giunta Marino, cade solo una parte delle accuse. Pena di due anni e quattro mesi anche per Massimo Caprari, ex capogruppo del Centro Democratico in Campidoglio. E la replica, la mia vita ormai distrutta, lo sfogo e le accuse di Buzzi dopo il verdetto, ma di cosa mi devo rimproverare di aver fatto assumere una disoccupata? E lo scenario, vediamo, 100 udienze e sentenza a ottobre dopo il nuovo sindaco, il maxiprocesso a tappe forzate, ma serviranno almeno 10 mesi prima di arrivare alla decisione. Ed ora vediamo la pagina dedicata all'economia, la prima pagina dedicata all'economia, quindi disoccupazione ai minimi da tre anni. A novembre 2015 il tasso scende all'11,3%, per i giovani cala al 38,1%. Torna ad aumentare il numero degli occupati, Renzi e la dimostrazione che il Job Act funziona rispetto a ottobre, il mercato del lavoro premia soprattutto le donne e sempre più anziani i lavoratori in attività. Questo secondo le cifre. Ed ancora vediamo ILVA, prestito statale di 800 milioni. Il provvedimento votato ieri dalle commissioni parlamentari punta ad aggirare una sanzione UE tempi più lunghi, fino al giugno 2017, per la realizzazione delle prescrizioni ambientali. E con la pagina dedicata all'economia dal messaggero ci fermiamo per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Giovanni De Palma di abruzzometeo.it e abruzzometeo.org. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Buongiorno, un po' in anticipo questa mattina, per fortuna diciamo poche le notizie di cronaca sul messaggero, ecco perché qualche minuto prima il collegamento con te. Giovanni, quali sono le previsioni per questa giornata? Diciamo che la nostra penisola continua ad essere caratterizzata dal passaggio di sistemi nuvolosi che tuttavia non risultano di forte intensità ma che favoriscono degli annuvolamenti anche sulla nostra regione, annuvolamenti che si tradurranno con occasionali precipitazioni soprattutto sul settore occidentale della nostra regione ma anche da un graduale aumento delle temperature in quota. Nella giornata di domani transiterà un altro sistema nuvoloso che favorirà annuvolamenti più consistenti e anche precipitazioni soprattutto sul settore occidentale, nell'Aquilano, sulla Marsica e sulle zone montose, ma qualche fenomeno tra sabato e domenica potrebbe estendersi anche sul settore orientale della nostra regione. A seguire, Elisa, ci sarà un deciso rinforzo dei venti, dei quadranti occidentali, soprattutto tra domenica e lunedì, ma in particolar modo nella giornata di lunedì a causa dell'avvicinamento di una intensa perturbazione di origine atlantica che, ripeto, sarà preceduta da forti venti di libeggio, quindi dalle nostre latitudini si tradurrà non solo con forti raffichi di vento sulle zone montuose e altocollinari, ma favorirà anche un deciso aumento delle temperature, in particolar modo sul settore orientale della nostra regione. Perturbazione che poi giungerà nella giornata di martedì, favorendo dei rovesciti, in particolar modo sul settore occidentale e una progressiva diminuzione delle temperature, Elisa. Bene, grazie Giovanni, ti auguro una buona giornata e buon lavoro. Grazie Elisa, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Io ricordo che oltre al sito internet abruzzometeo.it e abruzzometeo.org potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo, sempre aggiornato in tempo reale e attraverso il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma. Potete così postare commenti, porre domande, insomma essere sempre aggiornati in tempo reale sulle condizioni meteorologiche. Ed ora passiamo, vediamo le prime pagine, passiamo alla rassegna stampa locale, iniziamo con le prime pagine delle quattro edizioni del centro, iniziando da quello di Pescara. Vediamo in apertura la prima pagina del quotidiano dell'Abruzzo dedicata a Pescara. Bimbo dimesso, rischia di morire, ricoverato inutilmente a Teramo, salvato dai chirurghi di Pescara. In centropagina la fotonotizia, danni a Montesilvano, i vandali distruggono le pensiline della filovia sulla strada Parco. Nelle cronache, truffatori prendono di mira la parrocchia ed ancora finta donazione a Cuccarese processo al via. Nuova chiesa a Villa Carmine, no a Maragno ed ancora targhe alterne e protesta con Fesercenti pronta alla serrata, clima teso in comune. Vediamo ora la prima pagina dedicata invece alla provincia di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Vediamo in apertura, creare lavoro contro la fuga. L'Aquila, il piano di Cialente sul futuro della città, listat 70.000 abitanti. In centropagina la fotonotizia, la tragedia, schianto tra due auto, muore una pensionata di Goriano Sicoli. Nelle cronache, Avezzano, morti nel canale, chiesto un maxi risarcimento. Ed ancora in L'Aquila il dono di Silveria, web e tv finito in procura. E' sempre in L'Aquila, Trifuoggi, Processa, Sant'Agnese. Studenti in aula col cappotto all'Aquila proteste alla riapertura dopo le feste. Ed ancora vediamo la prima pagina dedicata invece a Chieti, Lanciano e Vasto del quotidiano Il Centro. Addiosirano nemico del malaffare. Chieti muore d'infarto il costruttore che fece arrestare i politici corrotti. In centropagina la Virtus Lanciano smobilita, ora volano gli stracci. I Maio scaricano le responsabilità sui giocatori, sono mercenari. Nelle cronache, esami e lezioni, vincono gli universitari. In Chieti, benvenuti sulle strade Collabrodo. In Vasto a Punta a Derci si pagherà per entrare la proposta del sindaco. Questo è l'interrogativo. Anche Calvi getta la spugna. Chieti dopo 60 anni chiude il famoso negozio di luci. E ancora l'ultima edizione, quella dedicata a Teramo. Vediamo in apertura. La notizia del bimbo dimesso rischia di morire, ricoverato inutilmente a Teramo, quindi poi salvato dai chirurghi a Pescara. In centropagina il comune di Teramo lo ha affidato ad una coppia, parliamo del micronido, quindi riaperto il micronido, primo asilo comunale gestito dai privati. Nelle cronache, tira e molla sul parcheggio dell'ospedale, ridato alla ASL e poi ripreso. In Giulianova, Tari, balneatori, giuliesi in guerra con il comune. Ed ancora colpi da 25 mila euro la lotteria Italia premia Silvi e Giulianova. Brucchi, infine sì al superparco Teramo Futura. Vediamo il sindaco appoggia l'idea del centro. Ed ora ci fermiamo prima di andare avanti con la rassegna regionale, con la rassegna stampa e quindi con le notizie regionali per una piccolissima pausa pubblicitaria. Tra poco. Eccoci rientrati alla seconda parte di Mattino 6. Continuiamo con la nostra rassegna stampa. Passiamo, torniamo al messaggero con la prima pagina dedicata alla regione Abruzzo. Vediamo in apertura, tragedia sulla provinciale, violento frontale, muore una donna di Goriano Sicoli, un'altra resta ferita, un improvviso malore e probabilmente all'origine dell'incidente. In centropagina vediamo la fotonotizia pescara. I balneatori insorgono, intervenire subito, inquinamento, ombre lunghe. Sull'estate, sanità, punti nascita, Chieti, il record regionale, il Chiarelli, quasi 2.000 neonati nel 2015 grazie a investimenti e qualità dell'assistenza. Vediamo il report Abruzzo, persi 4.000 abitanti. Entriamo all'interno, vediamo Abruzzo civico, frena, ma Gerosolimo attacca a sottanelli e calo demografico, ancora persi 4.000 abitanti. Gli effetti della crisi pesano anche sul numero dei residenti. Biglietti vincenti, lotteria Italia, poca fortuna per la nostra regione ed ancora vediamo nel taglio basso la politica Forza Italia finanziaria. Abbiamo contenuto i danni. D'Alfonso non ha voluto abbassare le tasse per dare soldi a tua e saga. Nella foto vediamo Lorenzo Sospiri che ha dichiarato nella giornata di ieri che quella ha criticato aspramente la finanziaria da poco approvata. Su questo articolo ci fermiamo per vedere il contributo video e quindi proprio l'intervista a Sospiri. L'approvazione del bilancio regionale ha fatto più notizia per la polemica tra i 5 Stelle ed Alfonso nell'ormai famosa scena della poltrona tolta e poi ripresa dal governatore che per i risultati ottenuti. Il centrodestra a sette giorni da quell'approvazione spiega le criticità della nuova finanziaria della quale ancora nessuno aveva parlato. La finanziaria è totalmente insufficiente perché è una finanziaria piena di tasse senza certezze che non aggancia la ripresa economica. Infatti i dati occupazionali dell'Abruzzo e in generale della nostra produzione di PIL se non ci fosse il polo dell'automotive e del sangro sarebbero fallimentari. Siamo tra le ultime regioni d'Italia e recuperiamo meno di tutti disoccupazione. Perché? Perché siamo pieni di tasse. Perché se non rimettiamo i soldi nelle tasche degli abruzzesi non facciamo ripartire i consumi interni. Se da un lato la tassazione era stata aumentata a causa del debito accumulato, il riferimento è alla sanità, oggi non si spiega perché il pareggio raggiunto abbia prodotto la chiusura di tanti presidi, la riduzione di tanti servizi e una tassazione ancora alta. Questo governo di centro-sinistra sa solo tassare riducendo i servizi perché contemporaneamente vengono ridotte le strutture ospedali. Noi abbiamo lottato fino all'ultimo secondo utile con ore e ore, giorni e giorni e giorni di ostruzionismo in aula tutta la notte fino all'alba per cercare almeno di ridurre il danno e su alcune attività come la tutelare il piccolo commercio, la difesa delle categorie più deboli, la possibilità di far ripartire alcune iniziative imprenditoriali abbiamo ottenuto dei piccoli risultati che comunque per noi sono da sottolineare. E poi un piano di sviluppo del lavoro, poche chiare ancora le politiche dedicate all'occupazione e alle imprese. Noi abbiamo tasse al massimo ingiustificate, non abbiamo più bisogno dell'ulteriore aumenti dagli addizionali perché siamo in pareggio di bilancio. Sono 25 milioni di euro all'anno che possiamo restituire agli abruzzesi e va fatto. Ed ora vediamo la pagina dedicata all'Aquila. Lo storico ristorante Tre Marie rinascerà e punterà sul caffè. Quest'in'apertura ospiterà un bar di classe, una cantina speciale per la degustazione di buon vino. Il cantiere del maxi aggregato ex Caris partirà tra un mese per finire tra due anni. La proprietà che fa capo a Venturi torna alla carica con un progetto quindi ambizioso. In centropagina vediamo al via i lavori di ristrutturazione del palazzo dell'emiciclo. Case di preturo, progetto case sarà demolito, un altro balcone ed ancora vediamo nel taglio basso. Asl soldi alla stampa, Silveri si difende, Petrucci presenta interrogazione. Il caso ruba banco ma te si dà alle spese pazze. La ladra trova il PIN scritto sulla stessa tessera e spende 2000 euro ed è stata denunciata. Ancora vediamo schianto frontale. La tragedia muore una donna, ha perso la vita la 63enne di Goriano Sicoli, Loretta Berardini ed è rimasta ferita una 36enne. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 9 a poche centinaia di metri dall'incrocio con la statale 5. Le novità dei masterplan per le aree interne, depuratori e ferrovia nei piani del governo. In breve sul Mona nessuna traccia dell'anziana scomparsa ed ancora da Vezzano l'ha stati già in comune subito al lavoro. Assieme appello a maggioranza e opposizione sono a disposizione di chi vuol parlare. Sul Mona caro Mense vincono i genitori. Trovato l'accordo tra famiglie e comune, evitati sicuri disagi. A Vezzano di Pangrazio, Rottamare, Linno di Mameli. A Celano invece droga allo spacciatore subito scarcerato. Ancora vediamo prima pagina dedicata a Pescara. Incubo, inquinamento, i balneatori temono. Un'altra estate di divieti. Cristiano Tomei di CNA chiede un vertice con la regione. Il risanamento del fiume è la priorità per le imprese. Vediamo nel sommario inutile discutere di piano demaniale e piano spiaggia senza un intervento radicale sulle acque di balneazione. Sul mare inquinato caccia ora agli scarichi abusivi. Abbiamo sentito ieri il vice sindaco del Vecchio. Lo ascoltiamo nell'intervista di Francesca Romana Testi. Mare inquinato a Pescara, in pieno inverno. Sono i dati dell'arte a renderlo noto. Picchi, allarmanti di escherichia e colibatteri. Il pensiero va subito ai divieti di balneazione per la prossima estate e il ricordo va a quella appena trascorsa. Ma prima di gridare all'allarme, spiega il vice sindaco, una riflessione va fatta. Non esiste un paragone per capire se l'inquinamento sia allarmante o se in passato vi fossero precedenti, perché mai prima d'ora si era provveduto a fare prelievi in inverno. Questo monitoraggio non è stato mai eseguito negli anni precedenti, quindi non abbiamo una misura di raffronto, se durante il periodo invernale i valori potessero essere diversi rispetto agli anni precedenti. Quindi è un'analisi ex novo e quindi va presa per quello che è. Detto questo, la preoccupazione comunque rimane alta, perché comunque sia il fiume Pescara trasporta inquinanti in misura molto elevata. Un'altra riflessione da fare è quella sugli scarichi abusivi, perché la vera difficoltà risiede nel risalire a concessioni effettuate in anni lontani e soprattutto dai protagonisti responsabili. Nelle ultime settimane infatti la Guardia Costiera ha scoperto più di 50 scarichi abusivi non censiti, una bella matassa da risolvere e l'appello dell'amministrazione oggi è alla collaborazione da parte di tutti gli enti. Abbiamo interessato il Presidente della Regione Abruzzo perché coordinasse un'azione, un tavolo tecnico di tutti gli enti locali perché si assumano decisioni al riguardo. Sappiamo e leggiamo anche sul giornale di un'attività di indagine da parte della Capitaneria di Porto, non so se anche da parte di altri organi dello Stato, di Polizia dello Stato, se ci sono altri controlli. Però già questi ci danno la misura di che qualcosa non funziona e non funziona in maniera elevata. Ed ancora a Pescara vediamo la curanti smog, deroghe e calendario, apertura dalla Giunta sulle targhe alterne. La maggioranza frena le tensioni interne ma i commercianti sono pronti alla serrata. Ed ancora la foto, vediamo quella classe di ferro dei futuri paladini della giustizia. Ennio Di Francesco ricorda gli anni del liceo con Alessandrini, Angelini e Laura Bertolè. Vediamo la pagina successiva. in l'atto d'accusa, così il porto canale rischia la paralisi. Il forum dei movimenti per l'acqua denuncia i rischi per la navigazione legati al progetto di taglio della diga foranea. Lavori appaltati senza valutazione di impatto ambientale, nonostante l'inquietante scenario paventato dalle simulazioni. In centro pagina vediamo la Befana non porta fortuna ai saldi, partenza in salita per le vendite. I negozianti puntano il dito contro maltempo e calendario. Domani il test del weekend. In breve vediamo Ex Fiat Termini Imerese, Human Jest impegnata nel rilancio. Nel taglio basso, passione e risultati. Ecco perché si rimpiange la DC. L'addio a Fernando di Benedetto risveglia l'orgoglio della balena bianca. Ancora vediamo il gran finale che festa tra alberi, eco e Befane solidali. Le vacanze di Natale vanno in archivio con una raffica di manifestazioni a Montesilvano, Cepagatti e Francavilla. Clown giocolieri accompagnano la vecchia con la scopa, premi agli addobbi più belli e giocattoli per i bimbi soli. L'emergenza maxi in gorgo paralizza l'asse attrezzato, traffico in tilt per ore a causa dello scontro tra due furgoni e di un mezzo in panne sulla tangenziale. Vediamo ancora in basso lo scivolone, Maragno inciampa sulla chiesa, maggioranza battuta in aula. In breve defibrillatori da BCC Doni a Pianella e Città Sant'Angelo, Montesilvano, nuova idrovora contro gli allagamenti, Torre dei Passeri pronto il sottopasso e la mostra, infine, i disegni di D'Agostino al Media Museum. Prima pagina dedicata a Chieti, vediamo, è morto Nicola Serano, svelò il sistema tangenti, ebbe il coraggio di denunciare il malaffare. in città costruì lo stadio del nuoto e la scuola di Selvaiezi, ma fu costretto a dare mazzette a diversi politici. L'imprenditore aveva 78 anni, oggi i funerali, nella cripta della cattedrale di San Giustino. Vediamo ancora il bilancio, Polstrada, tutti i numeri di un 2015 col segno più, ma preoccupano i dati sugli incidenti mortali in provincia. Ricorso accolto da Gossino resta alla ASL, lo ha deciso la Cassazione. Il caso ospedale, parcheggi a pagamento, scontro tra Marzoli e Colantonio. Vediamo ancora nella pagina successiva, Ortona, danni alla costa, ecco, 800 mila euro. A febbraio parte il ripacimento delle scogliere. A tutela del tratto più a nord è arrivato l'ok del comitato via l'annuncio del sindaco d'Ottavio. Eseguiremo interventi di consolidamento ai ripari di Giobbe e a punta dell'Acquabella. A Tessa, Sevel, riprendono gli scioperi nelle pause lavoro. Ed ancora a San Salvo, concorso arte presepiale, vince Antonio Stivaletta. A vasto pochi soldi, le strade restano una trappola. I problemi maggiori in via del porto, una delle arterie più trafficate, la rabbia di cittadini e associazioni. Lanciano, circonvenzione di incapace in due nei guai, i trentenni truffano un malato psichico, a marzo gli imputati dal GIP. A Lanciano, Istat, meno residenti, più stranieri. Vediamo la prima pagina dedicata a Teramo, rimpasto in giunta. Brucchi accelera, il sindaco continua le consultazioni con fratelli d'Italia e AN, ma sbraccia, non fa sconti, serve un reale cambiamento, basta con le solite persone. Il caso, braccio di ferro sul parcheggio dell'ospedale, il gestore privato lo restituisce alla ASL per due ore. Non c'è accordo sui costi, la parking piazzale Italia chiede almeno 8 milioni, l'azienda sanitaria vuole darne 3. Vediamo ancora in breve ambiente, rifiuti zero, riciclo sì, incenitori no, sono inutili. Nel taglio basso, Micronido, riapre la casetta sul fiume, la gestione affidata alla cooperativa Leonardo, attività aggiuntive. L'incidente ciclista investito da un'auto, tanta paura ma pochi danni, ieri pomeriggio a piazza Garibaldi. Vediamo sulla costa, Giulianova, Ultras d'Aspo in arrivo per 14 provvedimenti al termine delle indagini sugli incidenti scoppiati alla fine della partita tra Giulianova e Avezzano. Per identificare i responsabili degli scontri, i carabinieri hanno visionato con attenzione le immagini disponibili. Roseto festa al Palasport con Ginoble e il volo. Papà Ercole, che emozione, grazie a tutti. Il giovane cantante si è esibito nella sua città nel concerto che ha aperto, il Tour 2016. Vediamo anche su questo articolo il contributo video della serata del volo. Che sarebbe stato un trionfo era certo. Fan assiepati in attesa di vederli sul palco che nell'attesa inneggiavano le loro canzoni. Forze dell'ordine presenti in gran numero. Uno staff numerosissimo impegnato a far filare tutto liscio senza dimenticare nessuno. Un palco allestito in grande stile. Più di 40 elementi disposti come nei più grandi show del compianto Frank Sinatra. E poi l'arrivo di loro tre. Allegri, sorridenti e divertiti si preparano nei camerini cantando e scherzando. Gianluca Ginoble è il più emozionato di tutti. Perché per la prima volta da quando è una star internazionale riesce ad esibirsi nella sua roseto. E questo è il suo saluto al pubblico. Con questi compagni di viaggio, colleghi e amici abbiamo, come sapete, abbiamo girato il mondo. Cantato veramente con personaggi molto molto importanti. Però, finalmente, Stingdon tra la casella. A seguirli oggi, ad aver visto le loro potenzialità, da subito c'è un uomo di altrettanta fama internazionale. Michele Torpedine, manager dei Volo e precedentemente scopritore di star del calibro di Andrea Bocelli, Giorgia, che descrive così i suoi tre talenti. All'estero hanno fatto successo i tenori italiani, il bel canto, l'opera, le grandi voci. E il risultato di questo è proprio perché, come è successo con Bocelli in passato, con Mario Lanza, con altri, Caruso, Pavarotti, era quasi scontato che succedesse prima all'estero che in Italia. Nell'anno dell'uscita del loro primo libro, Una grande avventura, tutto sembra ripercorrere il loro vissuto, anche la scenografia sul palco, che racconta le loro storie più intime, più vere, più lontane, un regalo al pubblico per conoscerli ancora meglio. Quando diventi un personaggio noto, tanta gente scrive cose non vere. E dopo, quando hai l'occasione di pubblicare un libro tuo, finalmente hai l'occasione per entrare a casa delle persone e raccontare la verità. Quando uno dice la verità non è mai difficile parlare, perché è sicuro di quello che è successo e è sicuro che non ha fatto niente di sbagliato. Qui davvero posso, si capisce, posso davvero vedere chi mi vuole veramente bene, chi è qui per applaudirmi ed applaudire Ignazio e Piero e quindi sono davvero felice. Il concerto è un tripudio di applausi, cantano, incantano, scherzano, fanno sognare. E poi, guardami, guardami, io con te, sento che non esista tra noi, che non sia il tuo amico, è un respiro tra noi senza fine. E poi, guardami, io con te, sento che mi vuole molto bene. Guardami, io con te, sento che non è ill구요, Mi connettre tutto le Ciao a tutti, siamo Il Volo, vi mandiamo un grande abbraccio dalla vostra... Esatto, a tutti i nostri amici di TV6, siamo Il Volo, con affetto da Rosetta degli Abruzzi. Ciao. Andiamo avanti, vediamo in breve ancora Alba Adriatica, Piccioni, tornino le frecce tricolori, questo l'appello del sindaco. Giulia Nova Adriatica, nuovo impianto di illuminazione, tortoreto, depuratore, i soldi arrivano dal masterplan, il secondo lotto funzionale inserito tra i progetti strategici finanziabili. E sempre Giulia Nova, Giulia Servizi, sorgono le opposizioni, la società non deve essere venduta. Movimento 5 Stelle, linea retta, incalzano l'amministrazione cittadina, si ha subito ritirato il bando. Ed ora passiamo al quotidiano della provincia di Teramo, la città, vediamo l'apertura, il depuratore del ruzzo ai francesi, tortoreto, il colosso Suez, ha vinto l'appalto da 5 milioni per il nuovo impianto del Salinello. In centropagine il concerto Gianluca Ginobile porta il trio nella sua Roseto, un volo da tutto esaurito. E vediamo in breve Giulia Nova, sì, alla tassa di soggiorno, ma solo per rifare il lungomare. Teramo, un'altra vittima nella città della bici e del pedone. Entriamo all'interno della città, vediamo la pagina dedicata alla Regione. Forza Italia boccia la Giunta, non ha ridotto le tasse, il partito azzurro contro la finanziaria regionale, mancata crescita e aree interne completamente abbandonate. Ed ancora la proposta, i soldi ci sono, ci sono, ora si istituisca il reddito minimo garantito. Il consigliere Grillino Mercante torna a chiedere l'introduzione della misura. La protesta, Regione e i dipendenti in stato d'agitazione pensano solo ai dirigenti. Per i sindacati c'è trascuratezza nella gestione delle politiche del personale e caos nell'organizzazione. Ospedale Mazzini, sosta gratis per due ore al megaparcheggio. La parking riconsegna polemicante la struttura alla ASL. Dopo due ore arriva la proroga della convenzione fino a febbraio. E vediamo, udienza disorientata per due ore. Gli utenti dell'ospedale sono usciti dal parcheggio senza pagare il ticket, ripristinato subito dopo. Vediamo la città della bici e del pedone. Fa un'altra vittima, ciclista investito nel mezzo della rotatoria di Piazza Garibaldi. Già tornata nel caos e alla libera sosta selvaggia. Luci accese anche di giorno sull'8.0. Succede a Teramo ed ancora a quartieri. Villa Pavone, dissuasori in arrivo. Ieri mattina sopra il luogo del comune. Il micronido apre la stagione delle privatizzazioni. Riaperta la struttura sul lungo fiume. Il sindaco ammette che saranno esternalizzati altri nidi, ma non cambia niente. Bellante domiciliari per una 46enne condannata per spaccio. Ed ancora vediamo fratelli d'Italia. Indugia sul portone di Brucchi. Nuova giunta. Micheli e Taraschi salgono a palazzo senza sbraccia. Richieste sui temi, non sulle poltrone. Consistenza senza sbraccia. Il gruppo di Enne non avrebbe il peso per ottenere un assessore nel Brucchi Ter. Maggioranza per un rientro nella maggioranza. Ci sono le condizioni, ma resta da completare. Un triangolo complicato. Ambiente. L'associazione appena nata in regione. Rifiuti zero anche in Abruzzo. E vediamo ancora. Provincia. Cellulari muti. A Torricella interviene il Core. Con mutenti senza rete da un mese e mezzo. Per una controversia sull'antenna. Scattano le tutele per i consumatori. Sempre a Teramo. 300 bambini al museo. Grazie ai laboratori didatti. Grande successo per l'iniziativa durante le feste. E vediamo in provincia. Montorio. Grande torneo dello Stu. Vince Filippo Perretti. Di Giambattista II. Sul gradino più alto al podio. Under 16. Sale invece Michelangelo Eleuteri. Castelcastagna. Per la casa di Babonatale. Un maxibottino di 35 mila. Visitatori. Sindaco Rosanna De Antonis. I risultati ci incoraggiano a proseguire. E prossimo anno amplieremo l'offerta. Vediamo sulla costa. Tortoreto. Il depuratore del ruzzo al colosso francese Suez. La multinazionale si aggiudica l'appalto del primo lotto dell'impianto del Salinello. I lavori, gli operai della società entreranno in azione nel mese di marzo, una volta concluse le ultime pratiche. Al Badriatica è iniziata la rimozione delle palme divorate. Il comune ha perso la battaglia contro il punteruolo rosso. A Tortoreto aperte le iscrizioni per il corso di protezione civile. Le lezioni inizieranno martedì prossimo. Cinque stelle mettiamo all'asta la patrimonio e non Giulia. Servizi ed ancora con la tassa di soggiorno sistemiamo il Lido. Il comitato di quartiere interviene nel dibattito e convoca il sindaco. Iniziati intanto ieri mattina dopo la pausa natalizia e lavori lungo la statale Adriatica. Pagare la sosta proprio non piace. Abbattuta una colonnina ed ancora Giulianova. ha ricorso in commissione contro la stangata Tari. I balneatori si sono incontrati ieri pomeriggio allo stabilimento Portofino. Vediamo ancora Roseto, noi con Salvini, prove d'intesa con Pavone. Lattanzi prepara gli incontri ma l'appoggio al sindaco non è affatto scontato. Il movimento, il coordinatore provinciale Antonio Lattanzi si sta muovendo su tutto il territorio. Silvi, il progetto, la scoperta delle terre del Cerrano sulle due ruote, nasce Cerrano Bike per attirare nuovi appassionati e turisti ad Atri, Pineto e Silvi. Ed ora vediamo la pagina dedicata alla cultura, quel caleidoscopio di immagini possibili. Cosa resta oggi di fedele romani? E se lo traducessimo negli USA ne parla Maurizio Goderecci dell'Università dell'Ollabama. E questo insomma è uno degli appuntamenti previsti in provincia. Torniamo di Teramo. Torniamo al messaggero per vedere la pagina, la prima pagina dedicata allo sport con Abruzzo Sport. Vediamo in apertura il Pescara, Ronaldo più vicino. I dirigenti biancazzurri stringono i tempi per il centrocampista brasiliano dell'Empoli. Sempre calda anche la pista. In attesa dell'arrivo di un nuovo difensore, Fornassie potrebbe chiedere di essere ceduto. Il Foggia aspetta Sansovini. Vediamo ancora. Teramo resta chi ha voglia di lottare. Questa la dichiarazione fatta ieri dal mister Vivarini. Quindi torna a parlare Vivarini e detta le sue regole per il mercato. La Salernitana segue Scipioni. Ma vediamo direttamente l'intervista quanto ha dichiarato ieri il tecnico Vivarini. C'è stato il problema della squalifica, quindi sono rimasto un po' in silenzio. Anche altri problemi. Ho preferito cercare di star tranquillo e concentrato sulla squadra. Penso che adesso sia il tempo un po' nel bilancio di questo 2015 passato. Sotto l'aspetto tecnico dobbiamo dire che per me è stato un anno molto positivo. Sia all'inizio che anche alla fine. Perché abbiamo sempre cercato di essere all'altezza della situazione. Abbiamo lottato ogni partita. Penso che possiamo sicuramente rimproverare qualcosa. Però è meglio mettere la lente di ingrandimento sulle cose positive che abbiamo fatte. Adesso nel 2016 con questo mercato si deve sempre cercare di migliorare. Questo è stato sempre il mio obiettivo, l'obiettivo della società da quando sto qua a Teramo. Quindi adesso c'è la possibilità di un mercato e penso che la società stia cercando di lavorare sempre con questa ottica di andare a colmare certe lacune e cercare di essere più competitivi nel girone di ritorno. L'input che ho dato alla società è questo. Cioè chi è che non sta bene a Teramo, chi è che è triste, chi è che non accetta la situazione, i problemi di Teramo è giusto che venga messo sul mercato perché è chiaro si guarda intorno, si vede un pochettino le possibilità che ha a disposizione perché nel momento in cui chiude il mercato e rimane a Teramo deve lottare con grandissima umiltà, grandissima applicazione che giochi, non giochi, che vada in tribuna, che sia in panchina. Però dobbiamo essere un gruppo solido e unito. Questo è uno dei problemi che una squadra può avere. E quindi siccome c'è stato delle forzature all'inizio di quest'anno, adesso c'è il momento che magari dobbiamo appianare questo aspetto mentale e quindi tutti concentrati e tutti sul pezzo per cercare di fare un girone di ritorno all'altezza della situazione. Torniamo alla serie B. Maio, il Lanciano, non smobilitiamo la proprietà, stiamo rifondando ai giocatori. Avevamo chiesto agevolazioni sui pagamenti, hanno preferito andare. Ieri si è tenuta al biondi la conferenza stampa della proprietà per chiarire. Ascoltiamo. Guglielmo Maio, si parla. Qual è la risposta della società in questo momento? La società è viva, esigue le mie dipendenze, ne sono tutte quante calcolate. È semplicemente un fatto di autonomia gestionale. Il Lanciano, siccome è legato con un cordone umbilicale molto forte, direttamente ai fondi della mia famiglia, alle disponibilità della mia famiglia, alle volontà della mia famiglia, vogliamo rendere il più autonomo possibile il Lanciano. Se questa è una colpa, sono colpevole. Sarà gente che andrà, gente che verrà, ripeto, saranno 11 giocatori che andranno in campo tutti i sabati, barra domenica quando c'è il posticipo, che si lotteranno la salvezza fino alla fine. Questo ve lo posso garantire. I giocatori sono andati via perché hanno deciso di andare via. C'è un mercato, hanno deciso di andare in altre parti perché forse stanno meglio in altre parti. Noi abbiamo fatto le nostre proposte che ne facciamo tutti gli anni, c'è chi l'accetta e chi no. Onore a loro, li ringraziamo per quello che hanno dato, perché ci hanno dato tanto. E se se ne vanno con le lacrime, un po' di merito c'è pure questa società che forse ha creato qualcosa in questi anni. Le continue voci di cessione della Virtus? Non so più che dire. Appena mi arriva una richiesta, pure via sms la pubblico da qualche parte. Arrivano altre problematizzazioni perché si è andati lunghi con dei pagamenti. Che cosa è stato proposto in particolare ai giocatori che sono andati via? Di prendere gli stessi stipendi pattuiti, non un euro di meno, ma semplicemente la frequenza sarebbe cambiata. Quindi a giugno, quando scade il contratto, loro avrebbero preso tutti i soldi che devono prendere. Tutto qua. Deluso? Incazzato, molto. Ho sempre creduto in questa squadra, da quando l'ho presa, da quando prendiamo i pomodori per il primo anno, fino ad oggi che facciamo 4 anni di B, perché per la fredda cronaca è questa. E facciamo tutti i ricami che vogliamo. Ho preso una squadra fallita in C2, 8 anni fa, e siamo a 4 anni di Serie B. È una piazza calda che ha sempre dimostrato attaccamento e li ringrazio, li ringrazio sempre, soprattutto quelli che vanno in trasferta, si fanno migliaia di chilometri. Non accetto però, e non lo accetterò mai, le critiche personali, le offese personali. Perché non voglio grazie, non voglio essere ricordato. Voglio soltanto il rispetto personale, mio e della mia famiglia. Quello ci tengo. Adesso non passo su a nulla. Se qualcuno c'ha da criticare, criticasse. Ma le offese alle persone, no. Adesso mettiamo anche gli avvocati. Chi scrive adesso prenderà le sue responsabilità. Termina così la nostra rassegna stampa e quindi l'appuntamento con Mattino 6 torna domani. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. 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 Grazie.